tra anni 40 e 50. Sono alla base del fenomeno migratorio tutto quello che dal sud porta verso il triangolo industriale e quello che porta verso l'estero. Gli emigranti del resto erano merce da mettere sul piatto della bilancia dei pagamenti con l'estero per risanare il bilancio statale e inoltre lo sviluppo dell'emigrazione aveva anche una valenza politica non irrilevante, indeboliva i contrasti sociali, li riduceva, indeboliva la conflittualità di classe, aumentava la stabilità politica del paese. In questo quadro i governi, per evocare che oltre alla migrazione italiana c'è nel dopoguerra un flusso che va più o meno nella stessa direzione da tutti i paesi del sud dell'Europa. Dicevo, i governi italiani agiscono politicamente per migliorare questa situazione, migliorare vuol dire trovare nuovi sbocchi per l'emigrazione, con diversi accordi con altri paesi europei ed extraeuropei di cui altri vi avranno parlato per una emigrazione assistita. Le direzioni privilegiate in un primo momento per quanto riguarda l'Europa erano le aree della siderurgia, la Francia, il Belgio, la Cecoslovacchia prima della creazione della cortina di ferro, l'Olanda, la Germania che fino al 1955 è in parte occupata soprattutto lungo il Reno. L'Italia insomma esportava milatori e importava ferro e carbone per trovare anche proprio il filo diretto tra, nello stesso ambito produttivo. Perché la Germania? Ecco, una nuova direttrice di emigrazione, quella verso la Germania, quella che poi costituisce l'ambito in cui si muovono i protagonisti del film, che si vedrà domani o dopo domani, chiedo scusa, che si vedrà sabato. Dicevo, questa nuova direzione o rafforzamento di questa direttrice migratoria si apre alla metà degli anni 50. Fino da allora la Germania, quando parlo di Germania intendo Repubblica federale tedesca, la Germania occidentale. Quella nasce nel 1949 come tale. Era rimasta, dicevo, la Germania soggetta ad alcune forme di limitazione della propria sovranità e in quel contesto si era orientata soprattutto al riassorbimento della manodopera nazionale tra molte virgolette, cioè tutti i tedeschi che venivano espulsi dai paesi che i nazisti avevano occupato. Ma anche di quei connazionali che lasciavano la parte orientale, quella soggetta al blocco sovietico. Era una politica efficace, per intenderci, nel 1955 la Germania aveva un tasso di disoccupazione del 2,7%, che vuol dire che c'era la piena occupazione, perché gli statistici ci insegnano che non tutti rientrano anche se occupati nelle statistiche. Tuttavia la crescita del paese, secondo i tedeschi, avrebbe comportato la necessità di importare una manodopera, un milione, 800 mila persone l'anno, forse erano un po' troppi, le previsioni si basavano su una prospettiva di crescita economica troppo grande. Tuttavia questo è lo stimolo da parte tedesca che finalmente si incontra con la speranza italiana di concludere anche con la Germania un trattato di emigrazione, è quello del 20 dicembre del 1955, si firma questo accordo italo-tedesco. Verso la Germania, poi torno su questo accordo, ve lo illustro anche perché da lì partono dei meccanismi che qualificano l'esistenza dei nostri connazionali in Germania. Non è che non ci fosse fino ad allora una emigrazione anche significativa in Germania, intendo anche nell'immediato dopoguerra. La presenza però degli italiani in Germania, ancorché non fosse tecnicamente clandestina, col termine che diamo ora in relazione alle emigrazioni, a questo termine, col significato che diamo ora a questo termine, ma i migranti non avevano comunque un permesso di lavoro, potevano entrare, certo, ma non avevano un permesso di lavoro e dunque la loro posizione non era legalmente definita, ad esempio per quanto riguarda le assicurazioni sociali. Eppure erano un numero significativo, il 5, 6, 7% dei 450 mila lavoratori stranieri in Germania. Dopo il 55 e per tutti gli anni 60 invece l'emigrazione italiana avrebbe scelto la Germania come meta preferita e gli italiani sarebbero divenuti, qui ci sarebbe un'altra diapositiva, la scopriamo assieme, come vedete diventano oltre il 40% dei lavoratori stranieri esistenti nella Repubblica federale tedesca proprio nel periodo che sono chiamato ad illustrarvi, gli anni 60, gli inizi in realtà degli anni 60. Per anche motivi statistici che magari se c'è tempo affronterò, tutt'altro che tecnici, legati proprio a come si rilevano questi dati. L'accordo del 1955, c'è un'altra diapositiva ancora, che indica già come si evolve poi questo accordo, introduceva il sistema dell'emigrazione assistita di Stato, secondo uno schema che era abbastanza complesso e che io sono costretto a sintetizzare in modo anche drastico. Le aziende tedesche chiedono al Ministero del Lavoro, fanno al Ministero del Lavoro tedesco le loro richieste di chi hanno bisogno. In Italia intanto gli uffici di collocamento cominciano a vagliare i curriculum e infine, e questo è il passaggio importante, una commissione tedesca vagliava le domande di lavoro, selezionava i candidati. Una commissione, la commissione si insedia a Milano inizialmente, ma poi viene chiamata la commissione di Verona perché già all'inizio del 1956 si mette lì a Verona, simbolicamente anche sulla direttrice tuttora per andarci in Germania, con una succursale a Napoli e lì resta a Verona fino al 1982, ma già da dieci anni aveva cessato di funzionare in modo significativo. Le procedure per la valutazione di idoneità di questi lavoratori, che poi venivano assunti da imprese tedesche, erano vissute con ansia, con disagio dai migranti. Qui c'è una lettera, un altro pezzettino di lettera per vivificare un po' una esposizione che rischia di essere noiosa, ogni tanto ci metto una lettera. La gente era venuta da tutta l'Italia già la sera prima, si dormiva tutti per terra in una immensa sala, eravamo circa mille persone che avevano fatto 20 e 30 ore di viaggio, che puzzo. Alle sette della mattina cominciavano i controlli, come alla visita di leva, l'urina, i polmoni, il cuore, giù i pantaloni ordinavano i medici, guardavano se avessimo malattie venere o un'ernia, dovevano aprire la bocca come i cavalli e a chi mancava qualche dente ci diceva, tornate con i denti. Le procedure di reclutamento erano in effetti soprattutto all'inizio improntate a questa pignoleria teutonica, usiamo anche noi visto che si parla di emigrazioni e di tanti luoghi comuni, ecco questo è quello dal coteo italiano, la pignoleria alla precisione teutonica. E anche su un'estrema cautela, per intenderci, il primo anno le aziende tedesche chiedono 31.000 lavoratori, a Verona ne selezionano solo 10.000, sarà per i denti, sarà per le ernie, comunque non riescono a trovarne più di 10.000. Poi anche da parte tedesca le aziende cominciano a dire, cosa serve questo, come funziona? I criteri in effetti si ammorbidiscono, si ammorbidiscono anche in relazione però all'ammutamento del quadro della cooperazione europea, diciamo. Lo dico più avanti questo, intanto do un numero complessivo, tra il 56 e il 75 bene o male riescono a passare 350.000 lavoratori italiani lì da Verona e più di 300.000 risultano idonei, quindi insomma migliora forse la dentizione italiana o forse diventano più laschi i criteri. Passata la selezione sanitaria e quella sulle attitudini professionali, il candidato poteva a quel punto, era libero di scegliere naturalmente, di firmare un contratto di lavoro che era un contratto di lavoro precario, diremmo, breve, a tempo determinato, tre mesi, nove mesi massimo, diceva l'accordo. Da prima tra l'altro, e questo chiarisce perché tre mesi, era l'edilizia lo sbocco professionale più tipico, poi già alla fine degli anni 50 sarà soprattutto l'industria e su quello mi soffermerò, tanto però, visto che anche in rete se ne trovano di immagini di italiani che sono andati a lavorare in Germania, perché non proporvele, c'erano anche le donne, queste in una fabbrica di cioccolatini, il cartello in italiano, il cartello naturalmente è in italiano, interessante, anche questo, la miniera, è il luogo tipico, ma forse il più tipico di tutti, Volkswagen. Inizialmente, dunque, il modello di reclutamento del lavoratore italiano era quello del guestarbeiter, lavoratore ospite. È un termine che evoca nella memoria italiana e di molti europei esperienze profondamente negative. Nella memoria italiana, già dal 1935 c'era stato un accordo tra il governo fascista e quello nazista per inviare dei lavoratori in Germania. Liberi i lavoratori, naturalmente, per come potessero essere liberi dei lavoratori con quei due regimi. Nel periodo della guerra tra il 43 e il 45, migliaia di lavoratori italiani sono obbligati, è un lavoro coatto e si chiamano guestarbeiter, ugualmente. Ecco, questo in effetti suona abbastanza male. La situazione, naturalmente, non era la stessa, questo va da sé. Comunque, i controlli di polizia sui migranti erano molto attenti e, soprattutto, gli insediamenti provvisori erano posti in zone periurbane. Il modello, insomma, era più o meno lo stesso, quello di un rapido turnover dei lavoratori, una rotazione rapida. E dunque, anche l'esperienza dei migranti necessariamente era improntata a questo aspetto, se mi passate il termine, transumante, con frequenti ritorni in Italia, perché in fondo, in una sessantina di ore abbondanti, si arrivava dal nord della Germania a Napoli, perché già per scendere ce ne volevano di più. Nel progetto iniziale del governo tedesco del resto, era esplicita l'intenzione di non incentivare una immigrazione definitiva. Cos'è un'immigrazione definitiva? Quella con le famiglie, al seguito. Una di quelle lettere iniziali fa venire fuori, entrambe fanno venire fuori il tema. Questo, dal punto di vista del migrante, voleva dire non mettere in atto strategie di integrazione, cioè l'apprendimento della lingua, l'integrazione sociale, le amicizie, gli amori, salvo qualche eccezione. Qualcuno in queste lettere scriveva una sintesi perfetta, secondo me, dell'esperienza dell'italiano in Germania. Lavorare, guadagnare, mandare i soldi a casa a partire. Le rimesse degli emigranti, quindi erano un altro nodo che non abbiamo ancora toccato, ed erano fondamentali, forse si è capito dall'introduzione che ho cercato di fare, erano un cespite determinante per riequilibrare la bilancia commerciale. Negli anni Sessanta le rimesse totale degli emigrati italiani, cioè il decennio, 60 oscilla, fonti diverse, 890 milioni, un miliardo di lire. Comunque sono dal 5 al 7% delle entrate valutari italiane. Ecco, dalla sola Germania proveniva un quarto di queste rimesse degli emigranti, ma nel Settanta oltre il 40%. Rimesse, proviamo a quantificarle con poveri esempi, che per chi lavorava in una grande azienda metalmeccanica, Volkswagen ad esempio, potevano anche essere di 50-60 mila lire nel 1960, per intenderci il nostro stipendio medio in Fiat era 47 mila lire, quindi emigrando, vivendo, comunque mandavo a casa 60 mila lire. E tra i 400 mila negli anni Settanta, per farci un ambito di idee, non sono andato a vedere quanto fosse lo stipendio Fiat dopo l'autunno caldo. Prima di addentrarci qualche ulteriore particolare, vediamo cosa, questo mi ispira, sì, è pertinente, sulla come, il dove, il quanti, il come, forse l'ho detto già il come, degli italiani in Germania.